Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Sono sette le adesioni all'avviso del sindaco di Calabrito per la scelta della nuova quota rosa della giunta comunale. Ora toccherà al primo cittadino e dagli uffici comunali che dovranno valutare le singole risposte e decidere se scegliere o meno il nuovo assessore. Ai microfoni di Telenostra è il sindaco Gersonmino Centanni che con chiarezza tiene ferma la sua posizione e spiega che la nuova quota rosa sarà nominata soltanto se ci sono tutte le condizioni e tutti i requisiti previsti dall'avviso del 28 settembre. Sono arrivate sette istanze da parte dei cittadini residenti e in questi giorni, a breve, da oggi, inizieremo a esaminare il curriculum delle aspiranti assessori. Come si è aggiunta a questo? Si è aggiunta perché c'è stata una diffida da parte del consigliere di pari opportunità della Regione Camarani, dottor Resso Lomazzo, e c'è stata anche una diffida da parte del prefetto. La legge su questi punti non è chiara e noi tendiamo a dare delle risposte anche in questa direzione. Quindi la manifestazione di interesse ha il fine di visionare e di dare delle risposte concrete in questa direzione. Non lo so quale sarà l'esito, ma sicuramente i parametri sono stati chiari. Esperienza politica e amministrativa, condivisione del programma del sindaco eletto e fiducia da parte del sindaco. Se ci saranno questi capisaldi, diciamo, allora sicuramente sarà nominato assessore, una d'ordina. Se questo non sarà, poi ci regoleremo di conseguenza. Dalle nove e mezzo stiamo già lavorando per visionare il curriculum e sicuramente daremo delle risposte a brevissima anche a tutte le interessate per l'istanza fatta. Spero positivamente e chiaramente la stampa e i cittadini saranno informati sulle decisioni che saranno prese.